buongiorno 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 dal dottor claudio saracino da benessere ipnosi soluzione l'ipnosi dcs vera e professionale con la v maiuscola oggi rispondo ad un signore di cambridge in inghilterra il quale mi scrive testualmente dottore come si fa a cambiare mentalità per avere una mentalità vincente una mentalità positiva una mentalità non plus ultra perché ho fatto tantissimi corsi ho letto tantissimi libri ho seguito tantissimi guru ma la mia mentalità è migliorata di un po ma rimango sempre lo stesso la stessa persona faccio il cameriere da un sacco di anni voglio affermarmi nello scrivere nel fare le cose mie però non so cosa fare e ho visto i suoi video qui in inghilterra e faccio questa domanda come posso fare per cambiare mentalità perché tutti i miei guru mi ripetono che l'ottanta 90 per cento è mentalità il 10 per cento è tecnica e non riesco a spiegarmi il perché io gli ho risposto rispondo anche a te che mi ascolti che hai voglia a dire montagna spostati la montagna non si sposterà mai 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 e tu cadrai nelle acque se non educhi rieduchi convinci persuadi il tuo pilota automatico il tuo subcosciente il famoso genio della lampada di aladino puoi essere il falegname più bravo di questa terra dell'universo puoi fare i mobili più belli dell'universo puoi essere il cuoco più in gamba puoi essere il calciatore più dotato tecnicamente fisicamente dell'universo ma se il tuo pilota automatico il tuo subcosciente ti dice picche ti dice pippe tu non andrai da nessuna parte magari sarà la persona l'artigiano o il calciatore meno dotato oppure l'artista il cantante meno dotato ad arrivare ad emergere e ad affermarsi e sai perché perché il suo subcosciente l'88 per cento della sua mente sa dove vuole arrivare è tarato direzionato condizionato come un termostato che controlla una temperatura per arrivare ad emergere anche se ma è meno bravo di te mi stupisco quando vedo persone che si vantano in tutto il mondo di essere bravissimi di voler fare l'imprenditore di voler essere l'artista più cool di essere l'attore il venditore la gente di commercio il l'esperto di l'esperta di ma nessuno fa nulla a livello subcosciente neanche i guru neanche i prof bla bla neanche i guru bla bla i fuffa guru chiamali come vuoi i quali ti dicono sì devi cambiare mentalità devi seguire ripetere fare brigare ma non dicono a chi non dicono come non perché non lo sanno forse neanche loro loro sono arrivati là grazie al loro subcosciente in maniera naturale e non l'hanno ancora capito anche se ripeto una pappardella tutto quello che dicono magari gli americani ma non afferrano come fare come far fare agli altri cioè questo è il punto hai voglia a dire cambio mentalità per emergere per essere vincente per essere il numero 1 se tu non usi il potere della tua mente soprattutto non conosci la chiave perché ci sono mille nomi mille discipline ma se tu pur facendo yoga meditazione ripetizione chiamala come vuoi non ottieni risultati c'è qualcosa che non va ora io ti posso garantire che la tecnica non plus ultra che ti può veramente far cambiare mentalità per il bene tuo ed il bene dei tuoi cari e l'ipnosi dcs vera professionale con la v maiuscola senza se senza ma e soprattutto quest'ipnosi dcs vera professionale unica al mondo non ha uguali non ha nulla a che vedere con l'ipnosi fuffa l'ipnosi da spettacolo l'ipnosi paura l'ipnosi da film e neanche con la stessa pur ottima ipnosi conformista e commerciale di Milton Erikson Dave Hellman Brian Weiss molto conosciuta tra tutti quelli a livello internazionale che fanno ipnosi vera professionale però perché non assomiglia perché tu con l'ipnosi dcs vera professionale puoi ipnotizzare anche le persone che non vogliono o che non possono essere a ricevere il tuo aiuto l'aiuto di altri come un vecchietto un bambino non ti ruba tempo non ruba il tempo tuo quello dei tuoi cari questa è l'altra grande rivoluzione nel mondo dell'ipnosi e soprattutto ti fa ottenere risultati perenni e duraturi se segui le istruzioni molto facili alla prova di un nonno alla prova di un piccolo alla prova di un idiota buttando via orologio calendario tempo il tempo non esiste con l'ipnosi dcs vera professionale non ti ruba neanche un secondo del tuo tempo se segui le istruzioni molto facili alla prova di un nonno alla prova di un piccolo alla prova di un idiota mi piace quando leggo alcune lettere alcune email di persone come l'altro giorno una persona australiana la quale mi ha scritto dicendo dottore al settimo mese non ci credevo eppure è successo che è spuntato il sole nella mia vita grazie ad uno dei suoi audio dcs io sono rimasto contento perché anche a me fa piacere se uno ottiene risultati in un nanosecondo dalla sera alla mattina oppure magari dopo un po di tempo però lui ha perseverato ha seguito i consigli non si è fermato lì a dire con i dubbi cadendo nelle acque ha continuato perché poi il metodo dcs l'ipnosi dcs vera professionale con la v maiuscola non rubando di tempo non devi fare chissà cosa ho aiutato tante donne con i dolori mestruali adesso non ce li hanno più grazie all'ipnosi dcs vera professionale perché portarti dolori cronici come i dolori mestruali conservando le tue mestruazioni a vita quando con delle parole semplici naturali comprensibili però create ad arte ad hoc intrise di un antico sapere che sfiora quasi un secolo e che provengono da due grandissimi artisti dell'ipnosi vera e professionale con la v maiuscola di los angeles bevri hills miei maestri miei associati i miei amici per l'eternità non lo finirò mai di ripetere che mi hanno cambiato e stravolto la vita la dottoressa rina brunini e il prof dottor miguel angel garai di los angeles bevri hills che hanno cambiato la vita a me l'ho studiato con loro io sono forse l'ultimo dei moicani e sto trasferendo a tutto il mondo il mio sapere le mie esperienze dirette indirette perché io da più di 12 anni mi ipnotizzo h24 anche adesso sono ipnotizzato anche se non sembra né a te né a sedicenti esperti di ipnosi e ho aiutato centinaia e centinaia di persone in tutto il mondo soprattutto online via skype ok con risultati a dir poco strabilianti funziona 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 e lasciati andare tuffati considera poi che l'ipnosi vera e professionale con la v maiuscola riconosciuta come medicina alternativa dall'associazione medica mondiale nel 1958 che ti invito anche a documentarti non credere nessuna parola del sottoscritto c'è della stessa chiesa con papa più o no nel 1847 e lo stesso papa giovanni paolo secondo papa voltila il papa polacco si ipnotizzava per imparare lingue straniere e ne conosceva più di 12 come dichiarato nella sua biografia che ti invito ad acquistare e a leggere poi se non vuoi scaricarti audio mp 13s che ti possono far avere una vera mentalità vincente come ego entusiasmo salute ed esito no stress molto controllo dei nervi no ansia no passato negativo no depressione eccetera 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 poi anche siccome ho sospeso al momento le mie sessioni online di ipnosi di cs andare presso un professionista dell'ipnosi vera e professionale con la v maiuscola anche se non utilizza il metodo di cs e l'importante però che abbia già affrontato casi come il tuo sederti e iniziare un percorso però ti posso garantire vissuto sulla mia pelle sulla mia vita su tutte le mie attività nel mondo che non esiste tecnica più potente più naturale dell'ipnosi di cs vera e professionale unica al mondo io le ho provate tutte nel famoso viaggio del salmone per trovare la mamma delle mamme e questa ragazzi non la sa e non la conosce nessuno in occidente o quasi ok tranne los angeles america latina e compagnia bella fammi tutte le domande del caso vista il mio sito internet www.ipnologiassociati.com la mia fanpage su facebook ipnosi auto ipnosi del dottore claudio saracino iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzione di cs del dottore claudio saracino e fai share condividi con amici e parenti perché può essere quel quid quella molla che ti può cambiare la vita e seguimi gentilmente anche sugli altri social instagram e twitter benessere ipnosi soluzione di cs del dottore claudio saracino un bacio un abbraccio amico mio del dottore claudio saracino alla prossima ciao